Il battaglia Manderoni di Shirem con la Zimiro P2 e con la Rasco, la Riandola, la Rattestica delle Melate. Il battaglia Manderoni di Sene. Sì. il salto è sostravato, frattito è un numero 550, 23 cento... ...sette... ...la testa della patria nuova in Pettino, di con le gare della scuola della Marca Santana e a ieri loro vanno a prenderlo... ...sette... 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 Sì 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 In position ... ... Sì ... ... ... ... Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.